C'era una volta, tanto tanto tempo fa, a Fiopoli Dalla Curia a Vescovile di Monteluzia Bovara Ho ricevuto il punto, il suo non richiesto dell'apporto Alligato 1 Per esempio la storia del molino che non c'era Non trovai di meglio che tornare alla stazione dei reali carabinieri Nuovamente domandavo di Enzo al capitano Lo Stacco Obbligando che il più rigoroso silenzio mi comunicava l'ora che avrebbe provenuto la bisogna Entro un massimo di giorni 3 e volle che io sulla carta fotografica disegnassi il punto esatto Ove Flanestino Molino trovavasi in locato Cos'è l'è tutto sto bordello? Alligato 2 Al signor Lo Stacco Capitano Alfagno Fomentante la stazione dei reali carabinieri in Monteluzia Oggento Rapporto del maresciallo dei reali carabinieri Purpuragiano Signor Capitano Se faccia l'affare sua Il vostro intendente l'ha perduto la commentatora felice Iersera ha accusato un fuori d'improvviso malessere Picchia possia e ci piace inventare se le storie Per esempio che ha sparato per rinestato da un nemè Non vi dubbio che si Han parlato e meritano certa e giusta punizione Ma ridurre il sull'astro con dieci padri di famiglia Pare a sua eccellenza reverendissima Per esempio Gruperrino è stato sparato All'eccellentissimo la perdo la commentatora felice Intendente di finanza Monteluzia Pace carnazza non l'abbiamo giolato né vivo né morto Chi ha per tempo avvertito i malviamenti? La vuole sapere una cosa Ossia quella sparatina se la inventò Ho mosso il cavallo e ho vinto la partita A presto Totò Ti abbraccio e ti bacia il tuo Gegè